Musica Squadra che vince non si cambia è la domanda che Moreno Longo si sta ponendo con vista sul ritorno a Frosinone, piazza in cui l'allenatore piemontese ha conquistato la promozione in A nel 2018. Il suo Bari domenica alle 15 arriva allo stirpe forte della vittoria sul Mantova dello scorso turno, la prima stagionale e consapevole della determinazione dell'avversario a secco di successi in campionato di riscattarsi dopo il pesante K.O. di Brescia. Andiamo a Frosinone in un momento loro particolare dove conosciamo molto bene questi momenti, si saranno parlati durante la settimana, saranno intervenuti sicuramente anche la società nelle vesti del Presidente, del Direttore, come è giusto che sia e quindi ci aspettiamo un Frosinone che abbia un impatto sulla gara importante. Conosco molto bene lo stadio, so quanto possono essere trascinati anche dal pubblico e quindi dobbiamo andare a Frosinone davvero con un impatto sulla partita importante perché hanno un'ottima squadra e le capacità per potersi risollevare in qualsiasi momento. Out Matino per un problema alla Caviglia, recuperati Simic, Maiello e Sibilli rispetto all'ultimo turno di campionato. Con quasi tutte le pedine a disposizione, Longo studia la conferma del 3-5-2 che ha avuto anche l'effetto di blindare la difesa nelle sfide con Sampdori e Mantova. L'allenatore non vuole però sentir parlare di numeri. A volte inizieremo in un modo, finiremo in un altro, a volte la partita ci dirà che la scelta magari per andare a cercare delle superiorità o delle certezze difensive deve cambiare. L'importante è che noi non cambiamo i principi. In questo momento non è una priorità quella sia del modulo che dell'interpretazione ma è quello di scegliere i giocatori migliori che stanno meglio e cercare di fare una scelta tattica che possa essere quella naturalmente più azzeccata. Nelle scelte di campo, difficile pensare a sostanziali novità rispetto allo scorso weekend. Pucino, Vicari e Mantovani comporranno il terzetto difensivo. Favasuli insidia d'Orvala a sinistra con Oliveri, uno degli undici ex tra campo, panchina e staff, a destra. Nel cuore delle operazioni vanno verso la conferma Lella, Benali e Maita. Davanti spera in un posto Novakovic, tre anni a Frosinone nel curriculum. Possibile chance a gara in corso per Sibiglia assente dal 27 agosto. Non possiamo in questo momento dare delle gerarchie a nessuno se non il fatto di essere contenti di avere l'opportunità di scegliere. Io credo che è sicuramente più complicato per un allenatore scegliere ma è meglio poter scegliere che non poterlo fare ed essere obbligati. In questo momento non è una priorità sia del modulo che dell'interpretazione ma è quello di scegliere i giocatori migliori che stanno meglio. Oltre mille i tifosi bianco-rossi attesi a Frosinone in un settore ospiti sold out arbitra Luca Massimi della sezione di Termoli. Atteggiamento è la parola chiave da osservare per longo. Credo che siano due elementi fondamentali di una squadra il fatto di non subire gli eventi ma di rimanere squadra come ho detto prima in ogni momento della partita e soprattutto di saper leggere le situazioni.